Suonare non è un lavoro, suonare è un piacere. Sicuramente le canzoni sono un modo facile, divertente, diretto per far arrivare qualcosa, sono azioni politiche. La libertà non è qualcosa che può essere secondario, ma diventa un bisogno primario. Potenzialmente cosa ti cambia se io canto come un tucano o come un usignolo? Che ti cambia di sapere? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.